In occasione del premio letteratura ragazzi 2023, che si terrà a 100, tutte le ragazze e i ragazzi dai 12 anni in su possono iscriversi al laboratorio Chuck Gira la Pagina, nel quale si derà il book trailer di alcuni libri in gara quest'anno. Che cos'è un book trailer? È un video che serve a promuovere un libro attraverso l'utilizzo di suoni, parole e soprattutto immagini. In pratica sintetizza il contenuto del libro stesso, cercando di coglierne l'atmosfera. Il book trailer rompe il ghiaccio, regala suggestioni, fa nascere interrogativi, genera curiosità e in alcuni casi falsare l'adrenalina. Ma chi leggerà il libro? Proprio voi ragazzi e ragazze che vi iscriverete. Non ti preoccupare però, non dovrai leggere tutto il libro, sarete divisi in piccoli gruppi e si procederà con una lettura a staffetta. E in quanto tempo? Avrete un mese di tempo per leggere il libro, dopodiché si inizierà a giocare con il programma Scratch. Lo conoscete? Ora passiamo al programma. Presentazione dell'attività giovedì 16 marzo. Vi aspettiamo numerosi al Centro per le Famiglie di Cento e in via Risorgimento 11. I laboratori si terranno giovedì 13, 20 e 27 aprile, sempre al Centro per le Famiglie di Cento e la presentazione dei nostri trailer alla cittadinanza venerdì 5 maggio alle ore 16.30 in Sala Zarri. Adesso tocca a te, mi raccomandi, iscriviti entro martedì 14 marzo utilizzando il QR code. Ciao, ti aspettiamo!